Buongiorno, ultimo appuntamento della settimana con Mattino 6, la nostra rassegna stampa. Allora iniziamo subito con la lettura dei giornali regionali, partiamo dal centro, nell'edizione di Pescara. Questa la prima pagina, mare sporco di vieto tenuto segreto, il titolo di apertura scelto dal quotidiano Il Centro. Pescara, il sindaco, avevo fatto l'ordinanza, ma non l'ho detto, alla città. Dunque è il caso mare inquinato a tenere ancora banco sulla prima pagina. E poi, nelle cronache, tragedia in mare, meccanico scivola e annega tra gli scogli a Montesilvano. Una mattinata in spiaggia si è trasformato in una trappola mortale per Enzo Faieta di Pianella, annegato ieri mentre faceva il bagno in località Diomera, un lido nella zona nord della costa ortonese. è stata fatale la decisione di spingersi a largo. Ieri ci sono stati due morti per annegamento in mare. Un altro deceduto proprio a Montesilvano, per quanto riguarda il mare, era un ex giudice magistrato della Corte dei Conti dell'Aquila. Poi in Pescara, il comune va avanti, mercatino dei senegalesi, pronto lo sfratto. E ancora nello sport, domani la Coppa Italia, Pescara in ansia, l'Empoli piomba su Memusciai. L'editoriale, nelle idee, è scritto da Bruno Manfellotto, riguarda la politica nazionale Renzi, la spinta propulsiva si è fermata, questo il titolo del pezzo. A centro pagina invece la fotonotizia con Renzo Arbore, pienone per il concerto dell'artista al Teatro D'Annunzio, Arbore in Canta. Il pubblico con la canzone napoletana. Nel taglio basso, il Buongiorno Abruzzo, questa mattina firmato da Giampaolo Coppola, la provincia non ha soldi e chiude per ferie. Infatti l'ente provincia per risparmiare chiuderà dal 13 al 19 di agosto. Sotto la testata troviamo una notizia importante che riguarda la petrolizzazione della costa. Ombrina c'è l'ok del governo. I ministri Galletti e Franceschini firmano l'autorizzazione ambientale. Il ministro dell'Ambiente, come abbiamo detto Gianluca Galletti, e il ministro dei beni culturali Dario Franceschini hanno firmato ieri il decreto di compatibilità ambientale per lo sviluppo della piattaforma Ombrina Mare della società Rockhopper a largo della costa abruzzese. E' l'atto amministrativo decisivo per la realizzazione della piattaforma petrolifera a 12 km dalla costa. Il presidente della regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso, e l'assessore Mario Mazzocca hanno annunciato un ricorso al TAR contro il provvedimento. Il deputato del Movimento 5 Stelle, Gianluca Vacca, e i rappresentanti del Forum dell'Acqua parlano di Abruzzo svenduto ai petrolieri. Questa mattina poi è stato organizzato anche un incontro con la stampa a Pescara. Cambiamo prima pagina, restando sempre al quotidiano il centro, e andiamo a vedere insieme la prima pagina dell'edizione della provincia di Chieti. Titolo di apertura ancora dedicato alla cronaca, annega davanti alla compagna, la tragedia a Ortona, aveva 56 anni, e a Silvio un'altra vittima del mare, come abbiamo detto in precedenza. Nelle cronache, le analisi dopo il rogo a Chieti, Asl, uova e latte incontaminati, ma c'è un dubbio. Incendio di Colle Sant'Antonio, sono solo tre i campioni di alimenti, come detto, uova e latte, che sono stati prelevati e analizzati sui 18 esaminati, a presentare problemi di contaminazione. L'Istituto Caporale, incaricato dalla Asl, ha dato rassicurazione sui prodotti uova, latte e carne, ma in termini probabilistici. In Lanciano, l'azienda di serramenti Pail, fa un accordo sui 25 esuberi, intanto è atteso il rilancio. Nello sport calcio di Serie B, in Lanciano, si rinforza con Zé Eduardo. A centropagina, verso il predisesto, siamo alla politica di Chieti. Vedete nella foto il sindaco Umberto Di Primio, il comune è pieno di debiti, Di Primio taglia i dirigenti. Il sindaco Umberto Di Primio, dopo l'approvazione del rendiconto, leggiamo nella didascalia, annuncia il predisesto. Il comune di Chieti ha debiti per 20 milioni e una liquidità di cassa a meno 16. Il primo cittadino punta il dito contro i dirigenti, dei quali annuncia il taglio, e contro la società partecipata a teatri e servizi, la cui attività di riscossione dei tributi sarebbe insoddisfacente. Adesso cambiamo ancora una volta prima pagina, ci spostiamo sulla prima dell'edizione terramana del centro. Andiamo a vedere anche qui qual è il titolo di apertura scelto dal quotidiano. Ancora la cronaca, ancora morti per annegamento. Silvi muore mentre fra il bagno. La vittima è un giudice aquilano della Corte dei Conti che era in pensione. Nelle cronache, in sei anni il settore edilizia ha dimezzati i posti di lavoro. Il settore edilizia in provincia di Teramo ha perso il 47,9% dei posti di lavoro. Dal 2008 al 2014 sono i dati resi noti dalla Cassa Edile, secondo la quale un'inversione di tendenza potrà esserci solo con l'avvio dei lavori del cratere sismico e per la sistemazione delle scuole. Sempre a Teramo, estate di fuoco, altri tre incendi alle porte del capoluogo. In Giulianova, revocato il divieto, il mare di Giulianova torna pulito. E a centropagina una buona notizia. Era l'ultimo marittimo rimasto in Gambia, liberati e tornato a casa tra gioia e polemiche a San Benedetto. Andiamo avanti ancora con il quotidiano Il Centro. Adesso andiamo a vedere insieme la prima pagina dell'edizione aquilana, l'ultima delle quattro prime pagine provinciali del centro. Ex magistrato muore al mare. Titolo di apertura all'Aquila, il procuratore Borrelli perde la vita a Silvi, forse è stato un malore a causare l'annegamento. Nelle cronache, in L'Aquila, preso a Sassate, Antico Palazzo, caccia ai vandali. E poi a Sulmone, i comitati beffa dalla regione sul metanodotto. In Avezzano, notte bianca con la protesta dei negozianti. A centropagina, una tragedia sfiorata in Valle Roveto, un aliante è precipitato in riva ad un fiume. Il pilota, fortunatamente, è rimasto illeso. Dunque, pilota, miracolato e precipitato con il suo aliante in riva al fiume Liri, un cinquantenne di Verona, partito dal Reatino, se l'è cavata solo con un bozzo in testa. Praticamente un miracolato. L'uomo stava sorvolando la Valle Roveto nei pressi di Civitella. Quando è iniziata a perdere quota, immediatamente sono scattati i soccorsi. Adesso cambiamo testata, passiamo al quotidiano Il Messaggero. Andiamo a vedere la prima pagina dell'inserto Abruzzo. Mare killer, due annegati. Questa l'apertura ancora con la cronaca. Ortona, pescarese di 56 anni, tradito dal fondale in un punto non assistito dai bagnini. Tragedia poi a Silvia, anziano Quilano, stroncato da un malore durante una passeggiata in mare. E poi, ancora per quanto riguarda la cronaca, l'estate dei roghi, incendi nella Marsica e nel Terramano. Un maxincendio è devastato, i luoghi circostanti, l'abitato di Pescina e le fiamme hanno lambito l'ospedale. Oltre 20 ettari di bosco sono andati distrutti nella notte scorsa. L'incendio è stato spento dopo oltre 10 ore dai vigili del fuoco di Avezzano. E non c'è tregua per i vigili del fuoco, per la forestale, per la protezione civile, e nemmeno a Terramo. Ieri pomeriggio il rogo di Carapollo, che da giovedì ha minacciato la sede operativa della Terramo Ambiente, ed il vicino Canile è ripartito tenendo impegnati i soccorsi per diverse ore. A centro pagina, Ombrina, l'iter supera anche l'ultimo ostacolo. La pratica ora passa al Mise per la concessione. Mazzocca, l'assessore regionale all'ambiente, dice faremo subito ricorso al TAR e ci batteremo fino in fondo. All'Aquila, sassate sul gioiello restaurato, palazzetto dei nobili, vandali scatenati. Per una città che imbraccia la ramazza, ce n'è un'altra stolta e maleducata. Sian Pietrini lanciati nella notte contro il palazzetto dei nobili, gioiello del centro dell'Aquila, di recente restauro. Di spalla, Gran Sasso, quei 121 sentieri da progettare in 20 giorni, architetti infuriati, servirebbe l'elicottero, si rischia di perdere i fondi FAS. E poi nel taglio basso della prima pagina, per quanto riguarda la regione, caccia, ecco il nuovo calendario. Andiamo a vedere anche sotto la testata del messaggero. Pescara, notte bianca degli sposi, piazza Salotto diventa un atelier. E a Lanciano, estate musicale frentana, il clou gran finale per San Lorenzo. Mentre a Chieti, la notte del volo, caccia al biglietto. Il trio vincitore a Sanremo domani alla Civitella, guidato dal rosetano Gianluca Ginobble. Cambiamo ancora testata, restando alla nostra regione e andiamo a vedere insieme la prima pagina della città quotidiana della provincia di Teramo. La possiamo vedere insieme, il mare torna subito pulito, a Giulianova i turisti hanno comunque ignorato il divieto di balneazione posto dal comune. A centro pagina, verde, tagliati per far posto a rondò e parcheggi, gli alberi di troppo. Per quanto riguarda Teramo. Sotto la fotonotizia, multato l'accattone dei supermercati, sorpreso dai carabinieri a infastidire le anziane ai carrelli. E poi, di spalla, in presa del lavoro, la cassa edile, basta proclami, servono cantiere. All'Aquila, rumeni sfruttati, sequestrati gli atti in comune. E poi, aperta l'inchiesta, ancora fiamme e canader a Carapollo. L'editoriale Il punto sul teramo di Federico De Carolis, dal titolo Uno sguardo al Catania. Ovviamente si parla delle inchieste sportive che in questi due mesi hanno tenuto banco per quanto riguarda lo scorso campionato di Lega Pro e di Serie B. Poi, per quanto riguarda la Coppa Italia, sempre restando al calcio nel taglio basso, Vivarini preoccupato. Il teramo indietro per la partita di domani. Sotto la testata, invece, tornando alla cronaca, il sindaco quaresimale protesta inaccettabile. Campli, come Torricelle, i migranti lavoreranno. E poi, trasporti tua, sciopero record con il 90% di adesioni. E ancora, la novità, Pineto approva il baratto tra tasse e lavoro. Adesso apriamo la pagina dedicata alla rassegna stampa nazionale, andando a vedere insieme le prime pagine dei quotidiani nazionali. Iniziamo dal Corriere della Sera, che vediamo proprio in questo momento. Fronte per tornare al Senato elettivo, Marenzi fa muro. Dunque, apertura dedicata alla politica nazionale. Dai ribelli PD a Forza Italia abbiamo la maggioranza per fermare la riforma del Senato. Poi, a centropagina, la fotonotizia. Migranti, quei brambini tra le onde. E il richiamo di Papa Francesco, respingerli, respingere i migranti, ovviamente, è un atto di guerra, ha detto il Pontefice. Andiamo avanti ancora con la lettura dei quotidiani nazionali. Adesso vediamo la prima pagina della Repubblica. Riforme, migliaia di emendamenti per fermare Renzi. Possiamo vedere insieme la prima pagina. Senato elettivo, offensiva di opposizione e ribelli del Partito Democratico. Il Premier riapre a Berlusconi. Intanto, per quanto riguarda la RAI, c'è un waltzer dei direttori. RAI che ha appena nominato il nuovo Consiglio di amministrazione. Con la nuova Presidente, Monica Maggioni. A centropagina ancora i migranti, torturati e marchiati dagli scafisti. Il Papa contro i migranti, c'è una guerra, centinaia in mare per ore, in attesa dei soccorsi. E dunque, ancora purtroppo la tragedia dei migranti a tenere banco nel dibattito nazionale. Andiamo ancora avanti con i giornali nazionali. Adesso vediamo la prima pagina della stampa. Sempre i migranti, con quest'altra fotonotizia sui barconi, ci hanno marchiati con il coltello la drammatica testimonianza dei sopravvissuti. Il Papa ha detto, come abbiamo visto prima, respingere i migranti è un atto di guerra. E poi c'è una notizia che riguarda la TAV. Spariscono 80 milioni di euro di compensazioni. Del Rio assicura rispetteremo gli impegni. Intanto stanziati 32 milioni dei 112 previsti. La rabbia di sindaci e abitanti. A centropagina ancora richiama la politica nazionale. Senato elettivo, un nuovo asse. Ribelli PD, Grillini e Forza Italia. Mezzo milione di emendamenti. Renzi rischia, si complica l'iter della riforma. La Lega no a un nuovo Nazareno. Che si profila appunto un nuovo patto tra Berlusconi e Renzi. Andiamo ancora avanti. Il sole 24 ore. Ovviamente il quotidiano punta la sua attenzione sull'economia. Dunque titolo di apertura. Petrolio in caduta libera. Il Brent sotto i 49 dollari. Prezzi in callo per la sesta settimana costitutiva. VTI a 44 dollari al barile. E poi Unipol sai. Cambia la governance. Profitti record nel primo semestre per 455 milioni più 27%. E ancora richiamo alla politica nazionale. Senato per favore almeno risparmiateci il circo. Questo è l'articolo che riguarda appunto la riforma del Senato. Di spalla troviamo le code sull'autostrada. Autostrada 1 chiusa per ore. Incidenti e code anche sulla A14 all'altezza del casello di Ancona Sud. Andiamo avanti. Il messaggero edizione nazionale. Riforme avanza il fronte del no. Si rafforza l'asse anti-Renzi. Caos sul Senato elettivo alla sinistra del Partito Democratico. E con Forza Italia Movimento 5 Stelle SL. Palazzo Chigi dice la maggioranza non mancherà. I renziani se il governo va sotto si va subito al voto. E poi c'è il retroscene. Il premier mentre i ribelli tramano. Io mi preoccupo di rilanciare il sud. Questo ha detto alla direzione del Partito Democratico. Poi a centropagina la fotonotizia con l'autostrada paralizzata. Parliamo della 1. Automobilisi in trappola. Incidenti e morti. Code di 13 chilometri. L'incubo viaggia in autostrada. Ieri giornata da Bollino Nero sull'autostrada per l'esodo di agosto. Centropagina a proposito di esodi ma di tutt'altra natura. I migranti marchiati e torturati aumentano gli sbarchi in Grecia. Monito del Papa a respingere i profughi e un atto di guerra. Andiamo ancora avanti con la lettura dei quotidiani nazionali. Ci spostiamo nei quotidiani orientati e schierati. Questo è il campo del centrodestra con il giornale. Gli stipendi della Camera. Il PD taglia i tagli e regala 47 milioni alla casta. Questo è il titolo di apertura. Andiamo avanti. Vediamo Libero, sempre restando nel campo del centrodestra, Stato spacciatore e il governo si fa le canne. È un titolo abbastanza particolare come sempre quello di Libero. I parlamentari del partito del Premier e i grillini presentano la legge per liberalizzare la cannabis. Se già si fanno i conti, tassa al 75%, incasso fra i 6 e gli 8,5 miliardi. Ma così si innesca una gara a ribasso per i pusher e per tacere dell'ipocrisia. Andiamo ancora avanti con la lettura dei giornali nazionali. Adesso il tempo. Le cene con Renzi e il Cav, sarebbe il Cavaliere Silvio Berlusconi, ma c'è fango per Totti. I verbali di Buzzi, tirato in ballo di nuovo il capitano della Roma. Nelle carte si parla del Premier, di Matteo C, di 30 mila euro a Marino. Ovviamente questi sono i resoconti dell'interrogatorio di Buzzi per quanto riguarda l'inchiesta mafia capitale. A centro pagina, Giorgio e Matteo, fine di un amore. Meloni spinge sulle alleanze, ma il leader leghista frena. Andiamo ancora avanti per vedere qualche altra prima pagina. Questa è la prima pagina dell'avvenire. Respingerli, si chiede il giornale, prendendo a spunto il richiamo di Papa Francesco. Il Papa, un atto di guerra, ricacciare i migranti. L'ISIS in Siria rapisce i civili e rastrella i cristiani. Francesco, parlando ai giovani, sottolinea il dovere del soccorso. Lo Stato islamico di Al-Qaraitan con la lista di persone da portare via. Poi per quanto riguarda la politica a centro pagina, Riforme prende forza la fronda contro Renzi. Andiamo ancora avanti per vedere qualche altra prima pagina. Andiamo sull'unità, quindi un altro quotidiano orientato. Però questo è lo schieramento di centro-sinistra. Sud, zero chiacchiere. Renzi, basta con la retorica. Tutti al lavoro è una task force a Palazzo Chigi. I governatori, non ripeteremo gli errori del passato. Investiremo i fondi dell'Unione Europea e nazionali. E poi addio a Renato Zangheri, il sindaco intellettuale che guidò Bologna negli anni delle stragi. E a centro pagina ancora i migranti. Ancora il richiamo di Papa Francesco, un atto di guerra a respingere i migranti con questa fotonotizia. Andiamo ancora avanti. Il fatto quotidiano. Il sud dei nuovi schiavi. I migranti muoiono nelle favela se in mare il Papa dice respingerli è guerra. Poi il reportage, noi le braccia del granghetto tra caporali e una fine da bestie. Nelle campagne di Puglia, pomodori e mafia, sempre per quanto riguarda i migranti. E poi la tragedia, marchiati i seviziati, poi rinchiusi nella Stivani, hanno uccisi 200, arrestati gli scafisti del naufragio nel mare libico. A centro pagina la politica, 530 mila bombe sotto il Senato. Matteo ora non ha più i numeri. Andiamo a vedere rapidamente anche le prime pagine dello sport per quanto riguarda Gazzetta e Corriere, prima di passare al meteo. Iniziamo con la Gazzetta dello Sport, questa è la prima pagina. Supercoppa italiana in Cina, Juventus-Lazio alle ore 14, intrigua Shanghai e si gioca su un campo di patate, sottolinea la Gazzetta dello Sport. La fame bianconera o la sete di rivincita dei bianco celesti, Pogba o Anderson, Agnellio e Lotito. La sfida a mille risvolti, compresi la grana di Biglia e l'allarme tifone Champions-Il Bayern per Pioli. Sotto la testata, il ritorno di Fantantonio, idea biennale, Samp-Cassano sono più vicini. E poi un talento buttato via alla solitudine di Balotelli, Oriente o Stati Uniti. Di spalla, per quanto riguarda il Milan, Mister Bia fretta e il Milan in ansia vale 350 milioni. L'Inter ha bisogno di scoprire il vero Condogbia e poi è l'ora di Salah, ho scelto Io Roma e oggi debutta. Per quanto riguarda poi il nuoto, nel taglio basso della prima pagina, mondiali di nuoto, gioia, sette rosa, bronzo, via Paltrinieri, c'è Sun. Andiamo avanti ancora con lo sport, questa è la prima pagina invece del Corriere dello Sport. Ancora apertura dedicata alla partita Juventus-Lazio, Shanghai ore 14 su Rai 1, Juve-Lazio assegna la Supercoppa, ma dove li fate giocare? Si chiede il giornale con una fotografia abbastanza eloquente delle condizioni del campo di gioco. Campo vergognoso, timore di infortuni, esplode il caos. Barzagli recupera e ci sarà. Milinkovic pronto, partirà dalla panchina. E poi, nessuno lo vuole, Balotelli si offre, l'Inter dice no. Vuoto a centrocampo, Milan in difficoltà ripensa a Boateng, poi siciliani su Campbell, Palermo Torino, intrigo per Belotti. Ancora, per quanto riguarda il calcio, un grande speciale in regalo, via alla Premier, scopritela con il giornale. Poi, per quanto riguarda il nuoto, accusa al cinese primo nel 100 stile libero, la denuncia di Magnini, vincono gli ex dopati, il sette rose, intanto si prende il bronzo ai rigori. Sotto la testata, la Roma con Salà bloccato, scuffette, poi Sarri ritrova Iguain, ecco il nuovo Napoli. Ed ora, come promesso, diamo spazio al meteo per scoprire le condizioni meteorologiche sulla nostra regione nelle weekend. Ci affidiamo, come sempre, al nostro esperto Giovanni De Palma di abruzzometeo.it.org. Buongiorno a te Giovanni. Buongiorno Alfredo, buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Allora, illuminaci sulle condizioni meteo nel weekend, a te. Ancora temperature elevate al freddo su gran parte del territorio regionale, perché siamo ancora interessati da un promotorio di alta pressione di matrice nordafricana che, appunto, favorirà temperature molto elevate sulla Valle Peligna, ma nelle principali valli della nostra regione, mentre tenderà ad intensificarsi ulteriormente l'AFA lungo la fascia cosiera. Però, come avevamo annunciato già nei giorni scorsi, questa struttura di alta pressione inizia ad avere dei cedimenti, soprattutto in quota, e ciò favorirà nelle prossime ore comunque la formazione di annuvolamenti e di temporali che, dalle zone montuose, complici le correnti favorevoli, tenderanno poi ad estendersi nel corso del pomeriggio sera verso la Valle Peligna, verso l'Aquilano e verso la Parsica, dove potranno risultare localmente anche di forte intensità, data comunque l'elevata energia presente sotto forma di calore e di umidità. Questa situazione tenderà poi a riproporsi anche nella giornata di domenica, perché se da un lato è nottata e nella mattinata di domani ci sarà comunque l'attenuazione della nuvolosità. Questi fenomeni temporali che poi tenderanno nuovamente ad intensificarsi sulle zone montuose sul settore occidentale nel corso del pomeriggio sera. Non ci saranno particolari problemi invece, particolari novità sul settore orientale della nostra regione lungo la fascia cosiera dove continuerà a fare molto caldo e i tassi di umidità risulteranno ancora piuttosto elevati. Però, Alfredo, avevamo annunciato nei giorni scorsi di un probabile cambiamento, cioè tutto questo caldo tenderà finalmente, aggiungo, ad attenuarsi a partire dai primi giorni della prossima settimana, perché l'ulteriore cedimento di questa struttura di alta pressione favorirà l'ingresso stavolta di masse d'aria fresca di origine atlantica, a partire proprio da lunedì. Lunedì avremo già un peggioramento sulle nostre regioni settentrionali, peggioramento che poi si estenderà anche sulla nostra regione nella giornata di martedì, in particolar modo tra martedì e mercoledì, quando ci sarà spazio a dei temporali, anche piuttosto frequenti, localmente anche di forte intensità, che potranno interessare tutto il territorio regionale, non solo le zone interne, ma spingersi anche verso la fascia costiera. Proprio in questi due giorni assisteremo a un deciso calo delle temperature, quindi si tornerà in linea con le medie stagionali. Poi, dopo un temporaneo miglioramento nella seconda parte della giornata di mercoledì, assisteremo, qui dico purtroppo, a un nuovo intenso peggioramento delle condizioni atmosferiche che, alla luce dei dati attuali, vedrà coinvolta anche la nostra regione a causa dell'arrivo di nuove intense, stavolta perturbazioni atlantiche, che sembrano destinate a raggiungere gran parte del nostro paese, proprio in prossimità del ferragosto. Quindi tra venerdì e sabato non si esclude un deciso peggioramento delle condizioni atmosferiche, proprio a causa delle perturbazioni atlantiche che favoriranno anche, ovviamente, un ulteriore calo delle temperature. Quindi questa è una situazione, poi, Alfredo, che ci torneremo su nel corso dei prossimi aggiornamenti. Intanto diciamo che il caldo intenso ha i giorni contati. Questo è il dato che emerge se vanno gli ultimi aggiornamenti, però ovviamente ci sarà anche un deciso peggioramento del tempo, proprio tra martedì e mercoledì. Anche già nella giornata di lunedì comunque assisteremo un'ulteriore intensificazione di questa instabilità. Però poi i temporali si estendono un po' su tutto il territorio regionale, favorendo un deciso calo delle temperature, proprio tra martedì e mercoledì, Alfredo. Grazie allora Giovanni De Palma, ovviamente sempre preciso e puntuale nei suoi aggiornamenti meteo. Torniamo su internet, torniamo sul sito di Abruzzo Meteo con la regia di Maurizio D'Aguì per vedere insieme il sito appunto di Abruzzo Meteo, dove essere sempre informati abruzzometeo.org, non c'è soltanto il sito internet, anche le due pagine Facebook. Questa è quella di Abruzzo Meteo e poi c'è la pagina personale di Giovanni De Palma. Ovviamente sul social network potete interagire con Giovanni che sarà lietissimo di rispondere a tutte le vostre curiosità. Grazie Giovanni, buona giornata e buon weekend. Grazie Alfredo, un buon fine settimana anche a te e a tutti i telespettatori di TV6. Noi ci fermiamo per un break pubblicitario, poi torniamo con la seconda parte di Mattino 6. Eccoci di nuovo insieme per la seconda parte di Mattino 6. Ricominciamo dai nostri giornali e dalle cronache regionali. Allora la pagina Abruzzo del centro, enti locali, novità in arrivo, la polizia provinciale ora rischia di scomparire. Un decreto del governo prevede la fusione con le polizie municipali, ma gli agenti chiedono una riorganizzazione regionale e le competenze sull'ambiente. E poi Regione Caccia, varato il calendario preapertura il 2 di settembre, è l'articolo di spalla. Nel taglio basso della pagina, lavoro CISL, giù la cassa integrazione, ma la ripresa è ancora incerta. E poi Società Unica Regionale, sciopero dei trasporti, adesione alta, esultano i sindacati. Adesso la Regione deve ascoltarci. Andiamo a vedere insieme il servizio che riguarda il sit-in, che si è tenuto ieri mattina sotto la sede della Regione Abruzzo in Viale Bovio a Pescara. Vediamo. Una cinquantina di lavoratori della TUA, la neonata Società Unica del Trasporto Pubblico Regionale, hanno manifestato questa mattina sotto la sede della Regione Abruzzo in Viale Bovio a Pescara. Il sit-in rientra nell'ambito dello sciopero di 24 ore indetto dalla filte CGL e dall'UGL Trasporti. Sindacati e lavoratori contestano la politica della Giunta d'Alfonso sul trasporto pubblico, dicono no ai tagli economici e ai servizi e chiedono che la nuova azienda unica TUA sia una vera e propria opportunità di rilancio del trasporto pubblico regionale, evitando di commettere gli errori del passato che ne hanno penalizzato lo sviluppo. Un altro aspetto è sicuramente quello di destinare le risorse del trasporto pubblico locale solo a questo capitolo, solo a questa tipologia di servizio, evitando di utilizzare le risorse del TPL ad esempio per fare attività turistiche come avviene all'interno della Società Unica di Trasporti. Quali sono le zone con maggiori criticità dal punto di vista dei trasporti nella nostra Regione? Nello specifico abbiamo problemi sicuramente nella Valle Pellinia, abbiamo problemi nella Marsica e sicuramente abbiamo grandissimi problemi anche in provincia di Teramo. Nel Pescarese quali sono le situazioni di maggiore criticità? Secondo il nostro punto di vista l'utenza è stata penalizzata in tante circostanze e l'azienda è stata latitante in questi ultimi anni e noi siamo preoccupati perché se noi perdiamo utenza perdiamo automaticamente lavoro. Per quanto riguarda la cronaca giudiziaria, tornando sul giornale, l'Aquila appello di Sanitopoli del maxiprocesso sulle tangenti nella sanità abruzzese. L'appello ci sarà e inizierà il 25 settembre con la prima udienza. Nel processo Sanitopoli, ve lo ricordo, è stato condannato a nove anni e sei mesi di reclusione e in primo grado l'ex presidente della regione Abruzzo Ottaviano del Turco, assieme ovviamente ad altri imputati in questo maxiprocesso. Andiamo avanti con la lettura del giornale. Sempre per la pagina Abruzzo, cambiando argomento, Sottrivelle sulla costa dei Trabocchi, Ombrina, c'è il via libera del governo. I ministri dell'ambiente e della cultura firmano l'ok al progetto di Rockhopper. D'Alfonso dice faremo ricorso in ogni sede. Intanto divampa la polemica. 5 Stelle, Abruzzo svenduto ai petrolieri, vacca, attacca governo e regione. Il forum dell'acqua dice uno schiaffo alla volontà espressa dai cittadini. Questa mattina ci sarà una conferenza stampa ad hoc proprio del movimento dell'acqua per illustrare quali saranno le prossime mosse per contrastare questa decisione del governo. Cambiamo testata adesso, passiamo sul messaggero, andiamo a vedere insieme la pagina Abruzzo del quotidiano romano che ovviamente opera anche nella nostra regione. Andiamo a recuperare rapidamente la pagina Abruzzo, la possiamo vedere insieme. Idee e fondi per il sud, l'Abruzzo vuole entrare nel masterplan di Renzi. D'Alfonso a settembre saremo dal premier con i nostri progetti pronti per banda larga, ferrovie, rete, TNT, strade e autostrade. Ieri la direzione nazionale del Partito Democratico abbiamo avuto riconoscimenti per il lavoro fatto fin qui, ha detto il governatore. E poi la denuncia di Sara Marcozzi del Movimento 5 Stelle, consigliera regionale, vogliono realizzare un inceneritore in Abruzzo. E la possibilità che emerge dal parere sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 luglio, redatto dalla Segreteria della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni. E questa la denuncia di Sara Marcozzi. Gli abruzzesi devono sapere che nell'allegato terzo si dà atto di un fabbisogno residuo annuo di incenerimento per l'Abruzzo pari a 98.245 tonnellate. E poi taglio agli ambiti sociali per unificarli con i distretti. Per quanto riguarda sanità e territorio, in ogni area sarà previsto un centro di erogazione di prestazioni destinato alle fasce più deboli. di spalla, 7 milioni all'aeroporto via libera dal Governo alla ricapitalizzazione della Saga con 7 milioni di euro erogati dalla Regione sotto forma di contributo alle spese di funzionamento dello scalo regionale. Torniamo adesso sul quotidiano Il Centro e andiamo a vedere insieme la pagina di Pescara. Mare Sporco, questo il paginone che gli dedica il giornale. Ho emanato il divieto ma non l'ho detto alla città, così il sindaco Alessandrini parla in commissione e svela in retroscena della condotta rotta lo scorso 28 di luglio. Questa l'ordinanza che il centro chiama Fantasma con il divieto temporaneo di balnazione nella zona circostante, antistante via Balilla. Ieri c'è stata un'infocata commissione in comune a cui hanno partecipato vari consiglieri comunali di maggioranza e di opposizione, il sindaco Marco Alessandrini, i tecnici dell'Arta e anche il primario del reparto di malattie infettive dell'ospedale di Pescara. Andiamo a vedere insieme il servizio. Riunione affollata e incandescente al comune di Pescara per discutere il caso acqua inquinata del mare. Le commissioni ambiente e vigilanza riunite assieme per l'occasione hanno ascoltato tra gli altri il parere dei tecnici comunali dell'Arta oltre che del primario del reparto di malattie infettive dell'ospedale di Pescara, Giustino Parruti. Quest'ultimo ha rassicurato tutti rispetto all'allarme. Per Parruti non c'è stato un significativo aumento dei casi arrivati all'ospedale civile adriatico. Non c'è stato nessun incremento, anzi paradossalmente nel nostro reparto c'è stata una leggera diminuzione dell'attività rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Il che non vuol dire che i dermatologi non abbiano visto qualche lesione irritativa in più che ci può stare benissimo col fatto che noi abbiamo oramai 20 giorni, 30 giorni consecutivi di altissima temperatura. Pescara vive dal giorno di Pasqua di quest'anno uno stato di emergenza perenne per quanto riguarda la condotta fognante di Porta Nuova. Lo smottamento di una parte di assattrezzato e la conseguente rottura della condotta principale adesso aggrappata ha costretto l'ACA a ricorrere ad una vecchia condotta che da allora per 11 volte si è rotta in vari punti causando problemi. Tra queste rotture c'è anche quella incriminata del 28 luglio scorso che ha causato lo sforamento dei limiti di legge nel tratto di mare antistante via Balilla dove era stata appena ripristinata la balneabilità. Questi i dati dell'ARTA. Il tratto di mare prospicente via Balilla ha una estrema variabilità perché questa variabilità dipende dalle condizioni meteorologiche, quindi dalle correnti, a seconda per esempio dove l'acqua del fiume va trascinata. Quando le correnti vanno verso sud, via Balilla che a nord è completamente pulita, se invece ci sono maggiori ristagni o venti o correnti sfavorevoli, via Balilla ha dato più volte risultati non positivi. Comunque al momento possiamo dire che i prelievi effettuati dal primo di agosto in poi danno risultati entro i limiti. Ci sono stati gli ultimi due prelievi che hanno dato risultati dentro i limiti. Quindi tecnicamente quel punto oggi non è in divieto di balneazione. Va chiarito comunque che il compito dell'ARTA è quello di effettuare analisi e di fornire risultati alle autorità sanitarie. Noi quindi appena avuto il risultato delle analisi, che si badi, arriva sempre 48 ore dopo il momento del prelievo perché queste acque vanno incubate. Naturalmente scoppiata la bagarre politica, le opposizioni di centrodestra e il Movimento 5 Stelle hanno rimproverato al sindaco Marco Alessandrini lentezza decisionale nel vietare la balneabilità e scarsa comunicazione ai cittadini su quanto accaduto. Da par suo il sindaco ha risposto bollando come inutile allarmismo la polemica dell'opposizione e, dati alla mano, ha ricostruito i passi dell'amministrazione che si è tenuta scrupolosamente ai dati forniti dall'ARTA. Intanto i turisti evitano l'acqua. Meglio non fare il bagno, dicono. Prevale la diffidenza tra i frequentatori della spiaggia intorno a via Balilla. Faccio solo passeggiate o problemi intestinali da giorni dopo una nuotata. Questi racconti che arrivano dalla spiaggia pescarese. Andiamo avanti. Sempre restando a Pescara, lo sgombero dei 300 senegalesi in Mercatino e il comune non torna indietro. Cuzzi, l'area di risulta va liberata subito. È impossibile pensare ad un'altra zona. Gli extracomunitari dicono che ci servono almeno due mesi di tempo. I favorevoli allo sgombero Tauci, no alla vendita di prodotti contraffatti. Questo per quanto riguarda Confesercenti. E poi Beci, presidente della Camera di Commercio pescarese, denunciamo da anni lo stato di legalità. I contrari invece allo sgombero. Don Marco Pagnello con la forza non si risolve il problema e Castellucci della CGL si deve trovare una soluzione per chi lavora. Andiamo avanti con la lettura del giornale. Alberghiero, 100 prof sul piede di guerra e c'è un nuovo preside. Mancano 21 aule, manifestazioni di protesta il 1 settembre. Buzzelli a Venezia su sua richiesta da penne. Invece arriva Di Pietro. Chiude per la prima volta la provincia per ferie. Uffici chiusi dal 13 al 19 di agosto per risparmiare all'incirca 7 mila euro tra corrente elettrica e pulizie. Andiamo ancora avanti. Scherzo in bagno, ecco perché al Medusa è scoppiata la rissa. Gli albanesi denunciati si difendono, nessuna molestia. Stabilimento chiuso per 10 giorni, ma l'indagine non è ancora chiusa. Domani, piazza Salotto, la notte bianca degli sposi con la torta nuziale da record. E poi aveva fatto cadere una donna dalla bici recuperato il pitbull da una settimana, vagava a Fontanelle. Andiamo ancora avanti con la lettura del giornale. Per quanto riguarda gli spettacoli, il concerto Festa di Mandolini con Arbore con la fidata orchestra etraliana, l'artista spazia dal blues a Tosti d'Annunzio. E il pubblico si diverte ieri all'auditorium d'Annunzio. Andiamo ancora avanti. Con Trada Villanesi, 30 nuovi alloggi in attesa da un anno. Siamo a Francavilla. Scatena la polemica e il progetto di social housing. I soci della cooperativa attendono risposte dal sindaco. Intanto, il sindaco dice, mare pulito sul litorale di Francavilla. La qualità delle acque del mare di Francavilla è buona e non c'è alcuna zona che supera i limiti previsti in materia di tutela del mare di sicurezza pubblica. Così l'amministrazione si appella ai dati dell'Arta per ribadire la piena balneabilità del litorale francavillese. Andiamo alla pagina di Montesilvano. C'è pienone ogni sera e la riviera senza autopiace sempre di più dopo le perplessità e le critiche dei primi giorni di giugno. Decolle e convince quasi tutti. L'isola pedonale notturna sul lungomare. A centro pagina, quei dati non sono del comune. Oneri urbanistici mai pagati per 2,8 milioni. Il dirigente, posizioni imprecise. Strani i proprietari del sito ABP. Coravanti, la cronaca. Meccanico annega davanti alla compagna. La giornata di relax si trasforma in tragedia. 56enne di Pianella muore mentre fa il bagno nel mare di Ortona. A Città Sant'Angelo, invece, trofeo dell'Angelo, festa dello sport con la gara podistica. E sempre a Città Sant'Angelo scacchi due tornei alla Villa Comunale. A centro pagina, spoltore, sia i lavori nella nuova materna. Scuole e addizionale, passa il bilancio 2015. L'opposizione attacca. Il sindaco vada a casa. Scusate, queste le parole dell'opposizione. Andiamo ancora avanti. I talcementi. Timori per i 40 di Scafa. Il passaggio del colosso industriale ai tedeschi alimenta preoccupazioni sui lavoratori abruzzesi in cassa integrazione straordinaria. Fino al 2016. Nel taglio altissimo, letto Manopello, in ricordo di Marsinello, un monumento al minatore ignoto. E poi a Popoli, vongole veraci, cotte in una superpadella. Appenne, strada ultimata, variante est chiusa perché la provincia non paga l'impresa. Ci spostiamo adesso sul messaggero. Andiamo a vedere insieme qualche notizia dalla pagina di Chieti. Rischio dissesto di primio contro i dirigenti. Mi prendo le mie responsabilità, ma certo non le colpe degli altri. Stoppa i fannulloni e adesso arrivano scelte difficili e impopolari. Comune, macchina senza controllo, le partecipate, carrozzoni. Cresce l'attesa per i revisori dei conti e il riaccertamento dei residui. Il bilancio era rimasto in sospeso per dare spazio alle elezioni amministrative. Di Paolo, è un uomo solo al comando. Febbo, la situazione più drammatica di quanto possa apparire dai rendiconti. Insomma, ci sono grandi problemi per quanto riguarda il bilancio del comune di Chieti. Le alternative rientro dal disavanzo in un decennio, debito da spalmare in 30 anni o predissesto, come è accaduto a Pescara. Ospedale, se per quanto riguarda la sanità ora Flacco deve aprire un tavolo e Maltauro presenta il suo project financing Ferrara. I Gallucci raccolgono l'appello dei primari sulle troppe carenze. Ieri intanto il gruppo Maltauro ha ufficialmente presentato all'Aggiunta regionale la proposta di project financing per la realizzazione del nuovo ospedale a Chieti da 200 milioni di euro. A San Buceto, di spalla, vediamo, usano i carrelli come arieti per rapinare l'Eurospin. E poi, nel taglio basso della pagina, l'incendio di Colle Marconi, i risultati delle analisi, contaminato il fieno per gli animali. Andiamo avanti sempre con le cronache dal Chietino. La passeggiata in mare finisce in tragedia. Enzo Faieta, 56 anni di Pianella, nega sul litorale Frentano, in località Ghiomera, inutili i tentativi dei soccorritori di salvarlo. Giunto vicino alla scogliera ha probabilmente trovato un punto in cui non toccava più il fondale sabbioso ed è finito sott'acqua. L'uomo era in un tratto di costa dove non è prevista l'assistenza ai bagnanti da parte dei bagnini. Lanciano, ora basta ad Alfonso, deve commissariare la Sasi. Dopo l'inchiesta sulla depurazione, nove associazioni frentane hanno chiesto il commissariamento della Sasi che si occupa della gestione del comparto idrico per 92 comuni del Chietino. A Lanciano ancora, Asilinido, ecco le rette, riapre la campanella. E poi nel taglio basso, Tosondoro, la Starre Bassi, sarà lui il principe colonna. Avvasto, tutto pronto per la storica rievocazione che attraverserà le vie principali della città. A Ortona, Antichi Sapori, Sette Sere a Torre Vecchia. E poi a Lentella si sveglia e c'è la ladra accanto al letto. Ancora una storia di cronache e di furti. E poi a Lanciano a finanza è arrivato il capitano d'Ascanio, cambio al comando della Guardia di Finanza lancianese. Andiamo a vedere adesso insieme qualche notizia anche dal capoluogo Terramano, sempre restando al messaggero. I vandali prendono a sassate lo storico palazzetto dei nobili. Delirio nella notte, danni alle finestre e agli intonaci. Non si tratta del primo episodio. A gennaio i giovani ubriachi appiccarono il fuoco a Palazzo Paone. Però il palazzetto dei nobili era stato appena ristrutturato, dunque un danno enorme al centro storico aquilano. Il dodicesimo elenco al via è il recupero di otto frazioni. Restano i problemi dell'organico e di Abruzzo Engineering. Per quanto riguarda la ricostruzione, 51 progetti e parametriche per un valore complessivo di 100 milioni di euro. Andiamo ancora avanti con le cronache dall'Aquilano. Marsica in fiamme, allarme a pescina all'ambito dell'ospedale. L'assessore Verdecchia non c'è assolutamente dolo, ma va prestata più attenzione da parte dei cittadini. E poi sul Mona Call Center gli esuberi salgono a 100. La 3G conferma, anzi rilancia il piano degli esuberi. Adesso andiamo sul quotidiano La Città per vedere le notizie dal Terramanio, quindi da Terramo Città e dalla sua provincia. Andiamo subito a recuperare le pagine. Terramo, disabili, tiene la linea della Misticoni. Il sindaco Brucchi, l'equità sulla compartecipazione alle spese non si tocca, si ragiona invece sulla soglia. Ise, prossimo incontro il 25 agosto, al tavolo con le associazioni sarà portato il nuovo schema per l'analisi dei contributi ai disabili. L'evoluzione, Brucchi assicura che nessuno sarà lasciato solo. L'ala più dura della protesta organizza un'altra manifestazione. Intanto, doppia giunta, il sindaco convoca i suoi assessori per un confronto, tutti compatti sulla linea dell'amministrazione. Ma poi ci sono stati i mogugni. Gran Sasso, rinnovato l'impianto fotovoltaico dell'Enel al rifugio Franchetti. Nel taglio basso della pagina. Andiamo avanti. Accattone multato in via i rally, molestava le anziane con i carrelli all'uscita dal supermercato. L'ordinanza e i carabinieri del Norri in una settimana hanno multato tre accattoni molesti per le vie del centro storico. E poi gli incendi, un'altra giornata di fuoco a Carapollo, altri roghi e canadeire nella contrada. minacciata anche il deposito della Team e il canile. Andiamo avanti. I pini della Nuoelucidi faranno spazio ai parcheggi. Cinque giorni di chiusura al traffico per il taglio degli alberi e gli attraversamenti pedonali rialzati. La polemica. Alberi a rischio nel Terramano. Gli ordini lanciano l'allarme verde. E poi a centropagina il fatto scoppia la pavimentazione. Qui c'è un refuso di piazza Martiri. Gran Caldo e assestamenti fanno saltare decine di mattonelle nella piazza principale di Terramo. Politica nel taglio basso. Socialisti a congresso entro ottobre. Risolta la disputa sul segretario provinciale. Andiamo ancora avanti. Cassa Edile. Basta proclami. Servono cantieri. Dal 2008 al 2014. la provincia di Terramo ha perso il 43% dell'azienda e il 48% dei lavoratori attivi. Andiamo ancora avanti con la lettura del giornale. Andiamo in provincia. Pronto il progetto per far lavorare i migranti. Il sindaco quaresimale a Campli impiegherà i 60 extracomunitari in lavoretti pubblici come avviene a Torricella. E ancora a Nereto. Iniziati finalmente i lavori alla variante. Abbattuti i primi cipressi al cimitero. Comitato civico sul piede di guerra. E poi l'Odissea in Gambia. Il Marittimo ha ringraziato la Italfish, società armatrice di Martinsicuro. Massimo Liberati è tornato nella sua San Benedetto. Di spalla agli operatori turistici. Tante presenze in mare pulito per l'estate di Alba Adriatica. E sempre ad Alba Adriatica è sgomberata la spiaggia libera occupata dagli stabilimenti. Adesso passiamo allo sport. Tornando sul quotidiano, il centro. Andiamo subito a recuperare la pagina dell'Abruzzo Sport del centro per vedere insieme le notizie che riguardano la Serie B e soprattutto le squadre che sono impegnate nel campionato cadetto. Quindi Pescara e Lanciano e poi il Teramo. Il mercato del Pescara. Biancazzurri in ansia. L'Empoli fa sul serio per Memusha. Il club toscano vuole l'albanese. Il Delfino lo valuta un milione di euro. I Castellani offrono 500 mila euro e Signorelli. Spunta Caputo. E poi domani torna a Stroppa. Pescara nessun rimpianto all'Adriatico col Sud Tirol per la Team Cup. Ci sarà l'ex allenatore Biancazzurro. Una gara particolare, dice. Ringrazio Sebastiani per la chance di allenare in Serie A. L'ex allenatore del Delfino si racconta. Tre anni fa potevamo salvarci. Chiunque può riguardarsi la classifica e fare le sue consiglie. Le altre della B. Modena vicino all'arrivo di Aiwat, Schiavi e Sciaudone a Salerno. Andiamo avanti con l'Abruzzo Sporti. Il Lanciano si rinforza. Ecco Zé Eduardo nel mirino Cezzopoli. I rossoneri ingaggiano il brasiliano in prestito dal Cesena. Romagnoli interessati a piccolo. In difesa piace l'ex Modena. In campo alle 20. Domani al Biondi c'è la Juve Stabia. Per quanto riguarda le partite del Lanciano per la Team Cup ci saranno prezzi popolari per favorire l'afflusso del pubblico al Guido Biondi. Andiamo avanti. Sempre in Serie B. Il Teramo è l'inchiesta sul calcio scommesse. Di Giuseppe cambia legale e la D'Amelio affila le armi. Il DS che è stato sospeso dai Biancorossi affida anche la parte sportiva all'avvocato Giuliese. e non a Cozzone che è un avvocato che fa parte dello studio che difende la società Biancorossa, studio guidato da Edoardo Chiacchio. Spero nel proscioglimento del mio assistito, ha detto l'avvocato di Di Giuseppe, i dettagli faranno la differenza. Queste le parole di Libera D'Amelio. Domani Team Cup Biancorossi contro il Cittadella e la vigilia del primo impegno ufficiale per il Teramo, domani alle 19. La squadra di Vivarini riceve, come detto, il Cittadella, formazione che milita nel campionato di Lega Pro. In Paglio c'è la trasferta prestigiosa contro l'Atalanta nel giorno di Ferragosto. Intanto, tornando al processo sportivo, mercoledì mattina ci sarà il via al processo, appuntamento fissato alle ore 9 di mercoledì a Roma, dove si svolgerà il processo sportivo per Savona-Teramo davanti al Tribunale Nazionale Federale. Sono 5 i club deferiti più 11 tesserati. L'accusa sostiene che Savona-Teramo sia stata combinata. La procura della FIGC ha sposato in toto il teorema della procura distrettuale antimafia di Catanzaro, che per la vicenda ha emesso a giugno diversi avvisi di garanzia. In più, la procura federale ha aggiunto l'accusa al presidente del Savona delle Piane, chiamato in causa da Ninni Corda, l'unico tra gli indagati ad aver deciso di parlare, raccontando di essere stato avvicinato da Ercole Di Nicola e Marcello Di Giuseppe per cercare di avvicinare tesserati del Savona. Scendiamo nel taglio basso della pagina. Lega Pro, l'Aquila, De Francesco Guardavanti scommesse. Pensiamo al campo. Anche l'Aquila è coinvolta nell'inchiesta Dirty Soccer. Poi, il mercato di serie di Rapino e del San Nicolò, eccellenza Ciulia, va al Paternio. Andiamo ancora avanti con lo sport. Migli atleti si scaldano per la Migliani Couture. Domani al via la 45esima edizione del più antico evento podistico abruzzese, annunciata la presenza di due keniani favoriti per la vittoria finale. Migliani Couture, che è davvero una tradizione per la nostra regione. E poi il noto Special Olympics di Los Angeles, Giorgetta e medaglia d'oro è stata premiata al Comune di Vasto. Scendiamo ancora, cambiamo disciplina. Campionati italiani di beach volley, Nicolai, K.O. Salta Catania. L'Ortonese non parteciperà al torneo Under-19, Alfieri è secondo. A Sulmona tutto pronto per il trofeo di Pasquetta. Sulle strade della Badia di Sulmona l'ottavo trofeo di Pasquetta, classica ciclistica che vedrà come protagonisti i maggiori campioni abruzzesi appartenenti alla categoria amatori. E poi a Morro d'Oro sempre il ciclismo. Domani c'è il Mundialito, l'evento è alla ventesima edizione. Andiamo ancora avanti. L'ultima notizia per quanto riguarda lo sport e lo sky running. I yacht test even sul Gran Sasso vincono Maghè e Gimenez. Questo per quanto riguarda lo sky running, una disciplina di alpinismo. È tutto per quanto riguarda la nostra rassegna stampa. Io vi ringrazio per averci seguito fino ad ora. Vi ricordo i prossimi appuntamenti con la nostra informazione alle ore 14, alle ore 19 con il TG6, mentre Mattino 6 torna puntuale lunedì mattina alle ore 7. Grazie ancora. Buon sabato e buon weekend a tutti voi. Grazie a tutti. Grazie a tutti.